Passata l'onda alta dell'emergenza maltempo, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della provincia Giuseppe Paolini, questo pomeriggio la sala operativa integrata della provincia hanno rinnovato la necessità della richiesta dello stato d'emergenza al cospetto di una pesante conta di danni dovuta alle forti piogge di questi giorni. Non ci sono danni a persone, questo è un sospiro di sollievo che tiriamo, le previsioni stanno migliorando, però abbiamo una marea di danni, danni pubblici a strade, frane, smottamenti, a edifici pubblici, a impianti sportivi e poi tanti danni anche ai privati perché dove è entrata l'acqua ha fatto danni, garage, cantine, appartamenti al piano terra, negozi, fabbriche e quindi davvero la conta dei danni è tanta, per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza e oggi mi sono sentito sia col presidente Aquaroli che con il presidente Bonaccini perché tutta la provincia di Pesururbino ha bisogno di aiuto perché questa volta la sollievo non ce la facciamo. La pioggia che è caduta è stata tanta, è caduta su tutta la provincia, ha creato dei danni enormi su tutta quella che è la viabilità della provincia e piano piano stiamo tornando alla normalità per il transito, ma non naturalmente per le strutture e per i lavori che bisogna fare. Qui servono parecchie centinaia e se non qualche milione di euro per rimettere a posto tutto. Quante sono le strade chiuse? Le strade chiuse sono 25 strade chiuse per frane e abbiamo praticamente anche dei caduti di alberi eccetera ma quelli sono stati ripristinati, però per frane sono 25 e molte di queste sono state riaperte a senso unico alternato. Nei prossimi giorni si lavorerà per rendere il più possibile transitabili, ma il problema rimane degli smottamenti e delle frane che purtroppo con queste piogge sempre di più saranno e sempre più sono i problemi che creeranno per la viabilità e anche per la sicurezza dei cittadini e di chi viaggia in auto. Fiumefogli ha retto, ieri è stato fatto un intervento da parte del Comune molto importante su un'argine dove stiamo facendo i lavori di ciclo pedonali, di un ponte ciclo pedonale, quindi è stato rinforzato un'argine al volo e quindi benissimo il lavoro che è stato fatto sul Foglia. È un peccato che l'Enel ancora non abbia pulito l'invaso del furlo perché tutta quest'acqua l'avremmo potuta mantenere e quindi sarebbe stata acqua fondamentale per la siccità durante l'estate e acqua che non sarebbe arrivata sulla costa. Quindi è incredibile che ancora l'Enel dopo anni che viene sollecitato alla pulizia dell'invaso del furlo non l'abbia fatto. Speriamo che il grido d'allarme che arriva stavolta li faccia davvero muovere. Ufficiale la riapertura di tutte le scuole della provincia di Pesor Urbino, eccezione fatta per l'Ipsi e Benelli che rimarrà chiuso per un allagamento che ha colpito anche il piano interrato della scuola con l'acqua che è arrivata fino alla cabina elettrica. Chiusura per il giovedì con speranza di riapertura per venerdì 19 maggio. Domani riaprono le scuole perché il tempo è migliorato, le previsioni sono migliorate e la protezione civile ha passato l'area di Pesor Urbino da zona arancione a zona gialla e quindi domani le scuole sono di nuovo aperte. Abbiamo fatto bene a chiuderle in questi due giorni, soprattutto ieri, perché immaginate se ci fossero state le scuole aperte, che situazione, che caos avremmo avuto in città. Intanto per i danni ai privati è stata attivata anche una mail e un numero telefonico dedicato. Tutti i privati che hanno avuto danni possono scrivere a alluvione, tutto piccolo, 2023 chiocciolacomune.pesero.pu.it o telefonare allo 0721 387 789 perché oltre al resoconto dei danni pubblici dobbiamo fare un resoconto dei danni privati e poi sarà la provincia che gestirà tutta la procedura dello stato d'emergenza. Grazie.